Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale Volere, ordinare, comprare, scartare, usare, poi volere di nuovo e ricominciare Quanto di quello che hai è quello che vuoi? Te la sei mai posta questa domanda? Auguri di buon Natale Volere, ordinare, comprare, scartare, usare, poi volere di nuovo e ricominciare Volere, ordinare, comprare, scartare, usare, poi volere di nuovo e ricominciare Volere, ordinare, comprare, scartare, usare, poi volere di nuovo e ricominciare Volere, ordinare, comprare, scartare, usare, poi volere di nuovo e ricominciare Quanto di quello che hai è quello che vuoi? Te la sei mai posta questa domanda? Quanto di quello che hai è quello che hai? Grazie a tutti.